E tu dove vai a ballare? Questa è la quinta puntata, quinta puntata della SIT della Real Life, come si vede DJ Skunk ragazzi. Oggi ci siamo, non ci siamo travestiti, ma in realtà ci siamo un po' travestiti, è il collegamento in diretta con chi? PR, con Giuppi Bin Laden, no c'è il collegamento, noi sozziamo le immagini di loro che parlano in italiano, capito? Ok, adesso avremo invece il collegamento ufficiale direttamente Italia-Bari, con Giuppi Bin Laden, che ha riscattato il mondo con gli ordini nucleari offerti dai suoi sponsor, dalla Vivident, che è il nuovo, quello invece è 5 euro a cario per spruzzare i PC, è una merda, Aria compressa e Bic. E Bic. La webcam non c'entra un cazzo, ma nel terzo video l'abbiamo rotta. Ho il telefono, un pochino morto. Comunque passiamo il collegamento. Ti ringraziamo insieme Tren, qui c'è DJ, eh com'è? Dice Skeng! Skeng! Noi, io, io sono Giuppi Bin Laden, i miei sponsor, ho comprato anche lei con la carta igienica, grazie, grazie a Cheatwater ricordiamolo. E oggi siamo qua per la minaccia. Dal mio sacchetto Microsoft, Gulakite Mort, dal mio sacchetto di patatine è uscito un HB. Quindi, come potete vedere, è nuovo, ritirato dieci giorni fa. Ora io, DJ Skeng! Perché, ah bene, non si dice la U, come in... Skeng! Ma frenda! Non si dice la... La C... Si dice la... Si dice la F... Vabbè, comunque... Microsoft! C'abbiamo gli ordini atomici, abbiamo anche la bomba atomica. La bomba atomica. Non hai messo la canna. La bomba... Ecco l'acqua! Abbiamo anche la bomba atomica. E... Il cacciavite. O ci dai subito... 26,90€ per comprare il tuo gioco, è uscito. O te lo giuro! Gli accendo questa bomba! E tu sei distrutto, sei distrutto! Per farti vedere che non scherziamo, toglieremo delle viti. Bastardo! Ce l'ho fatta, non glielo se ne viene. Si è spanata, ma non c'è chiuderemo. Aspetta, se ne viene. Ma vanno a capire la bocchina. Ed è solo l'inizio. E' un pezzo di HP che ora ti inviere. Ma immaglicelo per me. Ma immaglicelo. Ma immaglicelo. Ah... Go per via aerea. Mandagli a giro! Scarub! Scarub o Marca Hitemort? Alzi! Ti viene da buttare Cosco! E la cacca, Scarub! A Bari non è andata. Ecco le cambiate tutte. La cucina è una novità. Ah, apposta, allora tutto è concesso. Microsoft, da questo momento tu tieni 24 minuti. Se non ci fai arrivare 26,90€ sul numero di carta che vedi qui. Qui, qui, in sovraimpressione. In sovraimpressione. Ci distruggiamo tutto il pianeta. Verremo casa per casa. E smonteremo orecchie di HP. Altro, puoi salutare qualcuno? Siamo famosi, siamo in Nemoge. Siamo in Mondovisione. Ci stanno guardando tutti, ciao! Saluta, di ciao ragazzi. Vi aspettiamo alla sesta puntata di The Real Life. Probabilmente anche su una radio famosa. Chi ti è muerto? Chi ti è muerto? Chi ti è muerto? Grazie alla nostra schiuma mille usi. Bravo, ricorda di sponsor. Mi sta pesando la bomba. No. L'attrezzo nucleare offerto dalla nostra vivide. L'attrezzo atomica. Già sta soffrendo ma... Ma è inutile, non qui ci entra. Ho i capelli! Paglio, io ho i capelli, tu no? Stai calma! No, io lo specchi in testa! Sembra un rapino! Andiamo in avanti, andiamo in avanti! Vai! Fa bellissimo! Il capello! Mi stringe tutto il cervello! Questa puntata si conclude qui, ci vediamo alla sesta, ammazzatevi, divertitemi e scopate porca madonna! E tu? Dove vai a ballare? Hai cato! E tu? Dove vai a ballare? E tu? Dove vai a ballare? Dove vai a ballare? E tu? Dove vai a ballare? Hai cato! E tu?